buongiorno a tutti allora vuota la spesina gigione perché ho preso un po di cose dall'iperal e poi sono andato dal mio amico paolo a prendere la frutta quindi iniziamo prima con le cose che ho preso all'iperal fatto una spesina veloce veloce e iniziamo subito con questo ecco sono volati i salami salame essere incubo eccoli qua aiuto perché c'erano i salami in offerta a parte lo spec solito che prendo sempre chiamolo lì ho preso il salame era in offerta 1,39 euro quindi ho preso il salame ungherese affubicato poi ho preso prosciutto alta qualità a 1 euro e 39 il salame milano classico eccolo qua gigante di milano yahoo poi ho preso i cracker integrali che sono quelli che mangio quando mangio il minestrone perché mangio solo il minestrone poi qua c'è la carta per fotocopie che la metteremo di là è carta per fotocopie niente di che home office hp eccola qua aiuto eccola qua carta per fotocopie hp che mi sa che la prossima volta la prendo dalla mia giornalaia di fiducia perché tanto costo uguale me la mettevano a 4 90 adesso l'ha messa a 6 e 90 cp di merlo ormai ero lì l'ho presa mi stop un attimo poi andiamo avanti proseguiamo proseguiamo perché ho preso la scorta dei miei maxi panini eccoli qua sapete che questi vi mangio sempre col col prosciuttino il posto mentre questi invece sono gli panini però dog che praticamente quando ho un po più di fame eccetera me ne mangio un in più oltre a quelli che maggio di solito che sono questi no per un paio perché devo ancora un po frumento integrale presi due di frumento integrale perché comunque intrinse abbiamo ancora e frumento integrale faccio che ho messo al contrario eccolo qua e frumento integrale bigliettivo che poi doveva per via e poi un altro mass burger così c'è gli ho di scorta perché non sempre mi trovo vado via come il pane questi qua anche oggi ci erano solo 33 pacchetti li ho presi al volo perché sennò restavo senza proseguiamo proseguiamo ce la faccio sì allora poi ho preso due dentifrici a z 1 euro 2 erano in offerta 20 centesimi meno del prezzo solito ne ho approfittato per prenderlo un paio non è che si sono sprecati una cacciotta a fette perché vi serve da mettere col prosciuttino col salamino eccetera eccetera scamorza una e una anche perché ne ho ancora quindi ho preso una pesa di tacchino perché ne avevo ancora una e una difesa di tacchino e di spec quindi ho detto inutile che mi riempie poi vado a fare la pesona la settimana prossima poi visto che c'era il salame in offerta perché c'è 1,79 ma era 1,39 ho preso anche il salame paesano e ho preso anche il salame piacentino eccolo qua quindi farò la settimana salame visto che sono almeno sei mesi che non mangio salame quindi anche se ogni tanto si mangia non è che muoio poi minestrone fresco verdure e legumi perché ho fatto la scorta minestrone legumi e cereali ed è un altro inverno quando estate adesso non lo posso più fare la mia cosa al tonno perché sono al ristorante a mangiare quindi farò tutta primavera autunno estate da loro e poi zuppa la toscana quindi eccolo qua e questa era la spesa che ho fatto a libera la spesina poi sono andato dal mio amico paolo a prendere la frutta ho preso le banane eccole qua tiro fuori solo classiche classiche cicchita poi queste che hanno sti così di così dicono che sono ancora più antitumorali delle altre quindi mi fanno molto molto bene le ho prese 22 è inutile che vi faccio vedere tutte le banane comunque sono qua nel saccone eccolo qua c'è un sacco bello pieno di banane e poi ho preso i pomodorini e poi i piccolini chiamiamoli così perché non aveva gli altri ho preso questi e poi ho preso le clementine eccole qua ne prendo una tanto per farvela vedere eccola qua la clementine comunque sono due chili abbondanti di clementine ecco fatto ve lo consiglio perché è stato bravo me le ha scelte è stato lì a sceglierli è stato attento anche quei pomodorini a scegliervi quelli quelli migliori quindi se siete di gravedona e limitrofi dopo vi rimetto ancora l'indirizzo del buon paolo che persona gentile c'è c'è anche altre cose oltre alla frutta è un piccolo una piccola drogheria se si può chiamare ancora drogheria nonché perché c'è la droga ma perché c'è anche altri prodotti oltre a frutta e verdura quindi se magari uno vuole fare la spesina di corsa eccetera non ha voglia di andare al super perché è un casino per di più tempo a fare la coda che non a prendere le cose andate da lui che vi tratta bene poi magari gli dite ci manda il gigi che mi fa anche piacere possibilmente non a fare cose brutte ecco la cosa a fare in acquisti detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo i prossimi video della spesina del gigione intanto vi faccio vedere ancora un po di di così le pomodorini e lì c'è anche tutta la spesa che ho fatto ciao